La città cambia, i progetti cambiano, i protagonisti cambiano. Milano resta capitale del design. La mutazione è un elemento del fatto architettonico. Cioè dilatare la fiera fuori dagli spazi del commercio, fuori dagli spazi espositivi canonici. È un luogo, è un tempo, è un evento dove vuoi essere inspiraato da... ...interni, mutant architecture e design. Mutante è evoluzione e sperimentazione continua in divenire, che lega il processo progettuale a sempre più attente e necessarie consapevolezze ambientali. Una serie di installazioni sperimentali, una composizione spettacolare, una riflessione sul progetto architettonico mutante e flessibile. Ma è molto, molto più di questo. Interni Mutant Architecture and Design Dall'11 al 23 aprile 2011 Cortili dell'Università degli Studi di Milano Cageranda via Festa del Perdono 7, Milano.